I punti deboli sono che tu lo devi cercare di stunnare sul pallet in pratica quando usa la motosega E il sceriffo Sei il viewer still Cioè adesso vedi Esattamente questo è il counter, capito? Quello che esattamente ha fatto Cercare di stunnarlo Provate a non rispettarlo perché ogni tanto funziona a non rispettarli Ah, sbagliato io qua Abbiamo il quitfiri pronto Non è male questo est Il problema è che il game è veramente impossibile per Bubba No, sono perso No, questo non lo accetto però Questo pallet stun che ero davanti non lo accetto Ace è bravo, molto bravo sto ace Ok Mi sono stunnato e per fortuna l'ho preso Eh ma è normale su the game Rompiamo gli instanti pallet Ma è proprio normale Sono il pre-droppa tutti No, qui come se non l'ho droppato All'altro W Ha abbastanza distanza per pre-dropparli Non dovrei andare per lui La realtà è questa Ok siamo riusciti in ottima No, vai tagli questo pallet almeno Nice Cioè quasi non ci arrivo eh Tra parentesi comunque Cioè quasi non ci arrivo Quasi riesci ad arrivare a un secondo pallet Ok Adesso si campera Era troppo in mezzo strano Grazie mille del follow Adesso ti ringrazio meglio ma Ho un attimo Pagino davanti e non riesco a vedere Zerichini ma te ce l'avevi già lasciato il follow Bentornato caro Grazie anche a te Tian Benvenuto fra i serpentelli Giustamente si allontana Per evitare che non carichi il 4% Ok Scusate devo farlo ADS Ci sa Ah è l'ossessione Iniziamo a rompere i pallet E adesso ci becchiamo un altro bel chase lungo Dead hard Ok nice Non ci è arrivato A usare the dark Forse ce l'aveva Ciao Napo Buonasera Buon anno Come stai caro? Non volevo aprire il locker Dai cazzo Eh si sono anche resettati Abbastanza sconvolgente Ma che cosa? Ma che mi sono perso È una delle mappe con più pallet Sì Darkor È una delle peggiori Infatti per i surf Per killer Proprio per questo Ok hanno finito Un altro gen Eh finito Non do questo gen Tra l'altro Ha aperto lì Peccato Ma mi dovete spiegare Perché non capisco Che cazzo vuol dire Poi con Bubba Sì esatto Con Bubba Maggior ragione Tra l'altro Ah me l'ha messa loro The game Allora capisco Non so neanche Come cazzo ho fatto A prendere l'hitbox Mentre cadevo Del muretto Devastante Mi sa che questo gen È nel 99 Tra l'altro Perché sono bravi L'hanno lasciato al 99 Da prima No ok Sono bravi Ma non l'hanno fatto È finito il game Se fossi riuscito A prendermi la kill Su 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 S S'era stato molto buono Ma Il miglior map Questa sicuramente Mani buff Nice Lui è morto Questo è l'importante Ciao Deadry Buonanotte caro Uno lo ammazziamo Questo è molto buono Questo mi vuole essere Almeno il book Non è a far di più Il backup L'appendo Cerchiamo di prenderci I value Magari riusciamo a prendercene Almeno due di kill Anche perché è vicino Il generatore Che vuole dipende Il knight perché è disabilitato Perché è bugato E a Natale non lavora La BH A Natale proprio la BH Va in pausa Non lavora Un dock fa male In questa mappa Sì un dock Sì Un dock Tempo di far legna Raga Legna fatta Balance landing Sicuro Fatti No no Non è uno scarsa Non lavora Beh beh Ma a Natale Chi lavora a zero C'è Ci sta Che comunque Si prendono Una pausa Minecraft Fa legname Ah ma son pre-made Aboriri Abololo Ho visto adesso GG Se fossero Di ferri Il pallet Sarebbe magnifico Non quello proprio Qua è stato un suo errore Che non ha predroppato Che non ha predroppato Il pallet Genna Qui sta lavorando È questo Però non è più qua Sto aspettando Che muoia Per me sì In un locker Magari Tipo questi qua Ma fuori Di creare bug Se sono stancati Honesto Vabbè Farmo altre legne Intanto Sì è vero Del 50% Zer Ma non tutti quanti Solo i primi 12 usciti Surve kill No Non è fratelli Ma sorella Figlio unico Come cazzo Difendo io Le porte Con il bubino Posso vedere Quella Ma questa No Non so neanche se lo vedo Da questa distanza Adesso Comunque Non so se vi siete Vi siete reso in conto Che Ogni volta che gioco Bubba Comunque esce da game Ci ho pensato adesso Che l'altra volta Che dicevamo La stessa identica cosa Ogni volta che gioco Bubba Esce the game E di solito anche Cheater L'altra volta Due volte di fila È uscito Tra l'altro Cheater su the game Se in realtà La consiglio come kill Se per gameplay Perk No per il perk Per gameplay Sì è molto forte Difficile Molto difficile Secondo me Da usare In maniera efficiente Però io trovo Molto forte La trovo Molto forte Vabbè avete capito Ho visto i video Su youtube Con i cheater Ma questo davvero Non sta aprendo la porta O mi vuole solo far perdere tempo Ecco lei Ho in tempo No Forse si Asso more anche per l'entità Sì E poi non puoi camperarli Cheater No È proprio volto in giro I cheater ormai Sono soltanto Quello Sì Vabbè Il problema Dei cheater Quando vabbè Cheatano Ma Ti Ti bloccano in game Sai quante volte Mi è successo Che cercassero di bloccarmi No Qua non c'è nessun cheater No 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 Ds Giurità Determinazione Adrenalina Classico Da che la porto Rebecca però Snake Cheater Report Cheater